Buongiorno e ben ritrovati con l'edicola di 8 Channel. Leggiamo i quotidiani di oggi, partiamo con Repubblica Napoli, andiamo a leggere il titolo di apertura, comuni, sprint, candidature, fuori la camorra dal voto. Domani e dopodomani la consegna delle liste nelle città alle urne. A Castellammare vicinanza lancia il modello Napoli, di Manfredi, Avellino, Campolargo ok, ma a Torre no. Andiamo all'interno a sfogliare Repubblica Napoli, andiamo a vedere questo primo piano sulle amministrative di giugno. Elezioni comunali fuori la camorra, infiltrazioni dei clan, ombre sui candidati, let motive delle comunali dell'8-9 giugno alla vigilia delle presentazioni delle liste, prevista domani e dopodomani. Se la questione morale tiene banco, con schermaie tra i partiti, anche perché tra i 22 municipi al voto nella provincia di Napoli, troppi vengono da scioglimenti per camorra, recenti e passati. E' il caso di Castellammare, sciolto nel 2022 col centrodestra, è stata la spinta per costruire nel centro-sinistra una coalizione ampia intorno a Luigi, vicinanza da PD, Movimento 5 Stelle, passando per azione sinistra, vicinanza si ispira proprio al modello Napoli di Gaetano Manfredi, potrebbe collezionare più liste dell'ex rettore, oltre 10, erano ben 17. Questo per quanto riguarda le elezioni a Castellammare. Andiamo ad Avellino, ci sono già 7 candidati, campo largo ok, invece centrodestra ancora a pezzi, quindi fuori dai giochi, l'uscente festa, ai domiciliari per l'inchiesta su appalti pilotati e concorsi, truccati al Comune, al suo posto si presenta la vice sindaca Nargi, indagata a piede libero, quindi unico capoluogo di provincia al vuoto in Campania nel test elettorale di giugno, ma i colpi di scena sono possibili, fino all'ultimo, dopo che è uscito di scena l'ex sindaco Gianluca Festa, che si è visto confermare gli arresti domiciliari anche dal riesame nell'inchiesta sui concorsi truccati e appalti pilotati. Dunque al suo posto è scesa la vice sindaca, Laura Nargi, alla guida di quattro liste civiche. Anche lei è indagata a piede libero per associazione a delinquere dallo scorso 18 aprile, quando i carabinieri che arrestarono il sindaco nella sua abitazione, sequestrandole il cellulare, contro di lei si è scagliato il candidato sindaco del campo largo, Antonio Gengaro, un passato nell'amministrazione comunale guidata dal compianto sindaco Antonio Di Nunno. Le dichiarazioni, mi sarebbe piaciuto sfidare Festa, ma l'ex vice sindaca ha detto Gengaro, mi sembra come Alice nel Paese delle Meraviglie, è possibile che lei non si sia accorta di cosa succedeva negli uffici comunali. Insomma questo è l'attacco del suo sfidante. La provincia di Caserta d'Aversa, centro-sinistra su Baldascino, il centro-destra va diviso alle urne. E quindi a due giorni dalla presentazione per le amministrative i giochi sono già chiusi nella stragrande maggioranza dei 31 comuni del Casertano, dove si andrà al voto per il rinnovo delle amministrazioni comunali. Gli occhi della politica però sono puntati soprattutto ad Aversa, il più grande dei comuni al voto, dove il centro-sinistra dopo settimane di discussioni è riuscito a trovare l'unità sul nome di Mauro Baldascino. Per quanto riguarda le elezioni di Aversa, andiamo a sfogliare ancora Repubblica a Napoli. Scalone di Santa Chiara ripulito dai graffiti, i frati dice che ora va protetto. Quindi lo scalone bianco all'ingresso laterale della Basilica di Santa Chiara torna a splendere con l'antico portale dopo il terzo intervento di pulizia da scritte e graffiti realizzato negli ultimi dieci anni. Ma quanto durerà così immacolato è la domanda ripetuta ieri al taglio del nastro con una simbolica esecuzione musicale. I frati minori che hanno in concessione il complesso del centro storico, uno dei più importanti e imponenti di Napoli, temono nuove vandalizzazioni e denunciano apertamente quanto accade nel tratto di strada senza controlli di via Benedetto Croce e via Santa Chiara di competenza della seconda municipalità. A San Giuliano Carditello dice come Pompei un grande progetto per rilanciare il sito, quindi la visita del ministro proprio per l'inaugurazione del tempietto dorico e l'appartamento reale. La supervisione da affidari a carabinieri Maddaloni dice ne faremo la venaria del sud e la regione faccia il suo dovere. Allora ancora le altre notizie, andiamo a vedere la cronaca, un'altra morte sul lavoro, un operaico che cade da 15 metri, fatale il cedimento di un solaio mentre installava pannelli solari sul tetto di un'azienda. Quindi un'altra tragedia in Campania in un maggio che ha appena iniziato il lastricato di Croce. Domenico Piervenanzi, 54 anni, originario di fratta maggiore, è morto mentre installava pannelli solari sul tetto della DGV Metal. Una piccola azienda della zona industriale di Aversa Nord, tra Gricignano di Aversa, lascia un figlio e la compagna. E' dunque l'ennesima morte bianca, una strage continua in Campania dall'inizio dell'anno e quindi è la tredicesima vittima. Andiamo a leggere ancora la cronaca. Addio a Rita, investita sotto casa, fermiamo le tragedie della strada. Quindi ha lottato per la vita fino a ieri poi il sorriso di Rita Granata, brillante professionista di 27 anni, laureata in relazioni internazionali, impegnata nel sociale, appassionata di politica, si è spinto per sempre. Troppo profonde le lesioni provocate dall'impatto con l'auto, che all'alba di domenica l'aveva travolta, appena scesa dal taxi che l'aveva riaccompagnata a casa, in via Lepanto a fuori grotta. Le sue condizioni erano apparse gravissime sin dal primo momento. Rita era stata sbalzata addirittura 30 metri più avanti, soccorsa da un'ambulanza del 118, era stata portata all'ospedale San Paolo e quindi a Nocera inferiore. Poi alla guida della vettura, un Apollo, c'era un ragazzo di 24 anni che si trovava insieme a un passeggero di due anni più giovane, dopo aver investito la 27enne, i due si sono inizialmente allontanati per far ritorno mezz'ora più tardi, dove sono stati poi identificati dalla pattuglia della Municipale. E dunque si fa ancora più grave il bilancio della strage, proprio consumata sulle strade della città durante l'ultimo fine settimana, segnato dalla morte anche di un'altra ragazza, Sara Romano, di 20 anni, investita e uccisa domenica, alle 6.30 in via Cattolica, al termine di una serata in discoteca. Anche lei era appena scesa dal sedile posteriore della Fiat Panda, sulla quale viaggiava con due amiche e stava per mettersi alla guida quando è stata falciata da un SUV guidato da un 29enne di Scampia, Marco Coppola, che è scappato senza fermarsi, ma è stato arrestato poche ore dopo. Andiamo a vedere un altro caso di cronaca riguarda le indagini sull'omicidio dell'ingegnere avvenuto a Ponticelli. Il killer si nascose nella villa del mandante, queste sono le ipotesi del giudice, dopo il sequestro di quattro maglie uguali a quelle citate dal presunto assassino, in un'intercettazione. Allora andiamo a sfogliare ancora Repubblica Napoli, Carlo Massarini, dicevi racconto i Beatles e la loro musica giovane, quindi prima di loro concerti dedicati ai genitori, dopo sono arrivati i figli, di un'avventura non solo artistica, hanno segnato un'epoca, così racconta il critico musicale. Allora andiamo adesso a vedere l'altro quotidiano di Napoli, quotidiano il Roma, andiamo a vedere la prima pagina, la cultura volano di crescita, la visita di San Giuliano a Carditello, risorsa come Pompei, dice poi a Napoli l'abbraccio del ministro con sgarbi, la cronaca, pistole, maschere per una nuova faida, alta tensione nella zona del mercato, sequestrato l'arsenale dei caldarelli. Andiamo dunque a sfogliare il quotidiano, andiamo dalla relazione del garante, emergono anche 29 morte in carcere, di cui 5 per suicidio, parliamo delle carceri della Campania, con l'allarme sovraffollamento, quindi appoggio reale, parliamo di 2.220 detenuti su 1.632 previsti, e poi a secondigliano 1.330 a fronte dei 1.085, quindi il dato sintetico è quanto mai chiaro, 7.330 detenuti, di cui 898 stranieri, 350 donne, su una capienza disponibile di 5.645, quindi è quanto riporta la relazione del garante dei detenuti della Campania, Samuele Ciambriello, che traccia proprio il bilancio del 2023, e dice l'emergenza nei penitenziari campani è quella relativa al sovraffollamento, pari quindi a 2.343 reclusi rispetto a una capienza regolare di 6.248, quindi preoccupante anche il dato relativo ai tossicodipendenti e ai malati psichiatrici, il CERD di Poggio Reale lavora bene e va rafforzato con altri medici, dice psicologi ed esperti, quindi i reclusi stranieri sono 888 e ci sono solo 11 mediatori, linguistici e culturali e 76 sono i minori invece ristretti. Andiamo a centropagina, Don Franco Esposito, le nostre case di accoglienza in campo, quindi abbiamo Simone Isaia, l'autore del rogo della Venere degli Stracci, che con noi è rinato, dice, quindi c'è chi parla di, e chi opera sul serio delle carceri di questa seconda schiera fa senz'altro parte Don Franco Esposito, quindi direttore della pastorale carceraria al Giuseppe Salvia di Poggio Reale. La situazione, dice, del carcere sta peggiorando giorno dopo giorno, sia per il sovraffollamento ma anche per la mancanza di educatori. Un carcere di 2.200 persone è non solo inutile, ma anche un grande danno, sia per chi sta dentro, sia per la società che sta fuori, perché subirà l'uscita di persone arrabbiate, pronte a ripetere i reati. Queste sono le sue dichiarazioni. Andiamo a vedere la notizia riportata in prima pagina, la visita di San Giuliano. Carditello dice come Pompei, ministro quindi all'inaugurazione dell'appartamento reale del Tempietto Dorico, al Real Sito, dice poi un progetto di rilancio come gli scavi, qui grandi potenzialità culturali e socio-economiche, quindi la supervisione degli appalti sarebbe da affidare, dice ai carabinieri. Il presidente della Fondazione Maddaloni dice c'è grande attenzione da parte del Governo, un'azione di grande coraggio, dopo anni di incuria e abbandono che sarà decisiva per il futuro proprio di questo posto. e queste sono le foto riportate dal quotidiano in Roma della visita appunto del ministro. La reggia, esempio di imprenditoria illuminata, promossa dalla Casa Borbonica, quindi caratterizzata da una palazzina di stile neoclassico, ospitava anche un'azienda agricola e un ippodromo che è il più grande al mondo. Allora andiamo ancora, vediamo le altre notizie, i fatti del giorno, livello nazionale, Spinelli, a casa oltre 200 mila euro. Parliamo del terremoto che si è scatenato in Liguria, altri dieci indagati, anche il commissario del Porto di Genova, l'ombra di una talpa nell'inchiesta. Quindi Toti prepara la difesa, dice solo equivoci, chiarirò tutto, tensione invece nel centro-destra. Quindi ci sono altri dieci indagati, oltre ai 25 indicati nell'ordinanza di custodia cautelare, nell'inchiesta della Procura di Genova che ha portato agli arresti domiciliari anche del presidente della regione Giovanni Toti. Tra di essi c'è anche il nome di Paolo Piacenza, commissario straordinario dell'autorità del sistema portuale, indagato per presunto abuso d'ufficio e perquisito quindi dalla Guardia di Finanza. I soldi nella cassaforte di Spinelli. Intanto l'imprenditore della logistica portuale Aldo Spinelli ed ex patron del Genova Calcio, anche egli ai domiciliari, è stata sequestrata una somma di denaro rilevante trovata nella cassaforte di casa e dunque si tratta di 215 mila euro, 20 mila dollari e 5 mila sterline. Il denaro è una parte dei 570 mila euro del sequestro disposto proprio dal GIP e oggi ci saranno quindi gli interrogatori. Andiamo ancora, andiamo in Campania. Sanità e duello De Luca, fratelli d'Italia e quindi il governatore tra poco dice non riusciremo ad aprire il pronto soccorso e la replica arriva e dice i concorsi deserti, colpa sua. Quindi dice tra poco non ci saranno i medici per aprire il pronto soccorso, manca la consapevolezza della drammaticità della situazione, il presidente De Luca rilancia l'allarme sulla sanità della regione in relazione alla carenza di personale. Quindi dice ancora abbiamo appena concluso un concorso unico regionale per cercare su tutto il territorio regionale dei medici dell'emergenza. Alla fine abbiamo recuperato una cinquantina di medici per tutte le strutture regionali, spiega De Luca. Il governatore osserva però che non può essere questa la soluzione del problema e ripete la sua ricetta in tre punti. Dice di raddoppiare le retribuzioni per i medici dell'emergenza, diminuire l'età pensionabile e consentire ai giovani medici laureati che fanno le scuole di specializzazione di avere contratti a tempo indeterminato per essere usati subito nelle strutture ospedaliere. E quindi andiamo a leggere la replica di Fratelli d'Italia che dice concorsi deserti e fuga di medici responsabilità di De Luca. Quindi a stretto giro arriva proprio la replica e dice se in campagna i concorsi per il personale sanitario vanno quasi del tutto deserti e contemporaneamente si registra una fuga di medici verso altre regioni o le strutture private. La responsabilità è soltanto di De Luca contrattacca proprio la deputata campana Imma Vietri che non è stato, dice ancora, in grado di creare le condizioni affinché questi medici potessero lavorare dignitosamente negli ospedali. Una verità per Vietri talmente evidente, impossibile da confutare che è davvero inutile e ridicolo, dice ancora, provare a creare confusione assumendo i propri strali sul governo nazionale che si è insediato da circa un anno e mezzo e quindi poi dice i concorsi vanno deserti. Aste truccati, andiamo ad Avellino c'è la cronaca nuova operazione della DDA dopo la bocciatura della linea Woodcock nel processo, dice si tratta di conti correnti pesantissimi e decine di immobili in tutta Italia accumulati quindi dagli indagati Forte, Aprile e Galdieri quindi oltre milioni di euro sequestrati proprio agli indagati ritenuti componenti del clan delle Aste Aste, ok, è il nome del processo Mercato San Severino De Luca inaugura la nuova TAC ieri appunto l'inaugurazione da parte del governatore andiamo a Eboli la procura ha dissequestrato i cani per recuperarli vivranno i due pitbull killer quindi la decisione della procura che il 22 aprile scorso nei riguardi dei due cani che il 22 aprile scorso aggredirono uccidendo il piccolo Francesco Pio di soli 13 mesi lo rende noto proprio l'OIPA che si congratula con i magistrati che hanno preso una decisione che va nel rispetto della vita dei due animali sottolineo e che da loro una prospettiva di recupero i cani si trovano in un rifugio nel casertano e dovranno essere sottoposti a un percorso di recupero a Napoli a spese dei proprietari ora indagati assieme alla madre e ai due zii del piccolo a piedepagina concerto in memoria degli omicidi moro e impastato a Salerno quindi eventi storici e culturali promossi proprio dal Rotary con la partecipazione dell'orchestra dei carabinieri andiamo a Benevento finte le minacce alla sindacalista quindi la procura di Benevento ha trasmesso gli atti a Roma per simulazione di reato e porto abusivo di arma Rosita Galdiero eroina nella CGL cui venne assegnata la scorta si è fatta spedire il proiettile dall'autista quindi un proiettile in esploso in una busta recapitata in un ufficio poi una serie di lettere minatorie lo denuncia una dirigente nazionale della FIOM CGL che riceve da subito grande solidarietà mentre il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica gli assegna le assegna una prima un agente di scorta e poi una sorveglianza rafforzata con un'auto di servizio e due agenti che la seguono in tutti i suoi spostamenti quindi scatta una campagna mediatica per non far sentire sola la sindacalista Rosita Caldiero 46 anni di Benevento e i fatti risalgono al 2022 ma le intimidazioni erano false secondo la procura di Benevento che ha trasmesso gli atti ai colleghi di Roma per competenza territoriale e dunque il GIP di Roma ha fissato l'udienza preliminare per il 2 luglio prossimo Rosita Caldiero è accusata in concorso quindi con il suo autista dipendente della FIOM CGL di aver messo in scena i vari episodi di minacce oltre che di detenzione del proiettile inesploso che il 9 giugno fu trovato in una busta affissa nella bacheca degli uffici della FIOM di Roma poi altre lettere alcune spedite da Sulopaca in provincia di Benevento furono recapitate nello stesso periodo alla sindacalista nella sua abitazione di Roma negli uffici della FIOM di Roma e Benevento e quindi secondo gli investigatori della squadra mobile che avviarono le indagini a confezionare proprio materialmente le minacce sarebbe stato proprio l'autista andiamo ancora ad Avellino l'Air Campania Conti a posto quindi il manager a Concia è stato confermato per altri tre anni morta la 27enne investita in via Leopardi anche qui la notizia di cronaca non ce l'ha fatta Rita Granata travolta travolta da un'auto mentre stava rientrando a casa poi i familiari di Sara Romano la 21enne uccisa da un SUV chiedono di fermare il Giro d'Italia proprio in via Cattolica per un minuto di silenzio Vomero in rivolta traffico e smog quindi commercianti e residenti in strada per chiedere un nuovo piano di mobilità stanno distruggendo il quartiere vogliamo una piazza libera contro l'area pedonale lo slogan di protesta proprio dei residenti e commercianti scesi in piazza degli artisti il divieto di transito per i veicoli doveva durare solo per il periodo delle feste natalizie ma quasi un mese da quelle estive piazza degli artisti ancora non riapre con il provvedimento che rende pedonale il lato della strada verso via Merliani la quinta municipalità aveva in mente una svolta green quindi l'obiettivo diminuire le macchine e rendere la piazza a un'area verde e sostenibile per i pedoni ma se si chiudono le strade le macchine non scompaiono e quindi in effetti dopo un sopralluogo degli uffici tecnici comunali era stato deciso di inserire una rotonda sperimentale di 25 metri all'ingresso di piazza lato via Tino da Camaino quindi non è ancora stato fatto niente e resta ancora il disagio per quanto riguarda il traffico e lo smog andiamo a vedere la notizia di cronaca riportata anche in prima pagina una retata nel bunker dei Mazzarella Caldarelli scoperti passamontagna maschere per rapine e agguati quindi l'assedio ai vicoli delle case nuove in un androne sono state trovate tre pistole quasi 800 proiettili quindi è un arsenale del clan una scoperta horror quella dei carabinieri in una zona storicamente sotto l'influenza dei Caldarelli Mazzarella le case nuove armi munizioni droga maschere parrucche passamontagna sembra quasi il kit perfetto per le rapine ma con l'ombra della criminalità organizzata considerato che il contenuto il contesto le ultime strategie dei clan per finanziarsi e quindi è scattato il sequestro da parte dei carabinieri di Napoli pusher aggredisce i poliziotti e finisce in manette quindi l'arresto ad alta tensione nella zona di Porta Nolana fermato il 55enne Antonio Vitale che aveva due grammi e mezzo di hashish allora andiamo a vedere ancora la cronaca freddato per lo sgarro del clan Pirulino fu assassinato per essersi impossessato di 100 milioni di lire chiesti 60 anni quindi per i due boss omicidio lausi cold case verso la prima sentenza rischiano Mazzarella e Barile quindi un regolamento dei conti con delitto per un ammanco appunto di denaro dalle casse del clan quindi la procura antimafia chiede la condanna dei boss Michele Mazzarella e Salvatore Barile accusati a vario titolo di essere responsabili dell'omicidio di Salvatore Lausi assassinato il 6 ottobre del 2002 in via Vergine per i due imputati eccellenti il PM ha invocato 30 anni di reclusione a testa sembra dunque sfumare per Mazzarella e Barile l'ipotesi di andare incontro alla pena dell'ergastolo allora andiamo a vedere il quotidiano Repubblica Nazione scusate andiamo a vedere le altre prime pagine dei quotidiani di oggi andiamo a vedere Cronache di Napoli scoperto l'assenale dei Mazzarella abbiamo visto anche sul Roma armi e oltre 700 proiettili sequestrati in un palazzo in via Cosenza nella zona delle stese di Aguati quindi le cosche che riprendono le armi eruzione in un bunker che il carrello condivide che il cartello condivide con i caldarelli quindi questo è quanto hanno scoperto i carabinieri nel bunker Ancora quattro raid incendiari a due passi dal comune nel mirino le attività della zona del turismo bruciati gli ombrelloni della trattoria a casa Viscardi e del bistro in via Verdi andiamo a centropagina strage sul lavoro operaio precipita e muore crolla il solaio quindi il 54enne di fratta maggiore cade da 15 metri di altezza è la terza vittima nel napoletano in una settimana e poi anche qui la notizia di Rita Granata era stata travolta dall'auto ed è morta ieri all'ospedale San Paolo quindi la 27enne non ce l'ha fatta è fuori grotta che piange la giovane Rita andiamo a vedere le altre prime pagine andiamo a vedere cronache di Caserta questo è il titolo di apertura la truffa della mozzarella DOP quindi Blitz a Vitulazio e San Cipriano d'Aversa di vieto di dimora in provincia di Caserta per il patron della società ABC e due suoi soci latte vaccino mischiato a quello di Bufala nei guai uno dei fondatori del consorzio di tutela e poi Castelvolturno ha processo anche il presidente Sementini parliamo di disastro ambientale rinviati a giudizio gli ex vertici della Multi Utility e l'ex sindaco russo contestata da IPM la scarsa manutenzione necessaria a far funzionare il depuratore andiamo a centropagina tre chili di ascesci in casa preso parliamo di Trento la Ducenta in auto aveva alcune dosi sotto il sedile poi la perquisizione nell'appartamento e il maxi sequestro allora parliamo di un 52enne arrestato proprio originario di Aversa ma residente a Trento la Ducenta l'uomo Vincenzo Abate è stato fermato nascosto in un vano tra i sedili del veicolo sono state trovate diverse dose di asces ad Aversa comunali liste tra veti tensioni e cambi di casacca ecco i volti nuovi stabile propone la figlia Golia e Virgilio in tandem queste le notizie riportate da Cronaca di Caserta andiamo adesso a Salerno leggiamo il quotidiano la città di Ervolino dice stiamo lavorando basta errori questo è il titolo di apertura parliamo del futuro della Salernitana calcio al passato dal patron Granata la pressione di fare in velocità provoca scelte sbagliate confronto con la di Milan tesserati collaboratori e consulenti sotto esame poi cessione del club offerte sul tavolo e poi Agenas i giudici lasciano coscioni presidente chirurgo ruoli diversi andiamo a vedere gli altri titoli a Cava dei Tirreni bomba al market ritorna l'incubo del racket in città e poi i politici al concorso bufera sui social ancora le altre notizie speculazioni sull'area prog lì alberghi e non case poi flop concorsone nessun medico sceglie il ruggi e poi ancora nocera inferiore sesso e mazzette 6 a processo rito abbreviato proprio per l'ufficiale giudiziario e gli avvocati quindi parliamo dell'inchiesta dell'ufficiale giudiziario l'UNEP ufficio notificazione esecuzioni e proteste proprio di nocera inferiore in 5 scelgono di essere giudicati con il rito ordinario allora andiamo a vedere a leggere l'altro quotidiano di Salerno le cronache andiamo a leggere la prima pagina la denuncia di Tiziana Nigro non siamo carne da macello la mia mamma attende una visita da giorni quindi colpita da un ictus mentre era ricoverata al ruggi questa è la denuncia di una donna basta con il caso Moro gli smemorati della DC dimenticano la figura del leader della tragedia repubblicana l'intervento di Antonio Manzo e poi la replica madama la marchesa sacche di sangue sparite a ruggi da mato dice si è andati davvero oltre poi il convegno misure di sicurezza per l'infermo di mente l'avvocato di Giacomo rems strutture inadatte ed infine Salerno sembra un cimitero con l'illuminazione a led queste sono le dichiarazioni di De Luca proprio sulla città di Salerno a Monterovella una strada intitolata a Marco Mattiucci e poi di Alfonso Malagone l'unica stella all'inno alla Salernitana allora questa era la prima pagina di Cronache di Salerno e noi così chiudiamo con la nostra rassegna stampa io vi ringrazio di averci seguito e vi auguro una buona giornata grazie a tutti Grazie a tutti.